Proiettare film da queste parti è una faccenda molto seria. È come il Capodanno quando arrivo io. Sapete perché tutti mi chiamano signor cinema? Proietto film da tutta la vita e non ho mai commesso uno sbaglio. Voglio vedere il film e voglio vedere mia figlia. Questa sera niente proiezione. Un estremo tentativo lo possiamo anche fare. Delicatamente, verso il basso. Lascia la pellicola! C'è mia figlia lì! Dammi la pellicola! Dammi la pellicola! Proiettalo di nuovo. È soltanto un secondo, non basta. Allora proiettalo dieci volte. Questa era la pellicola! Questa era la pellicola che faci vedere mia figlia. Grazie.